e le rovine delle case andate distrutte, tutta la devastazione provocata dall'alluvione. Ma quello che ricordo parimenti così vividamente è anche l'enorme solidarietà che immediatamente si è diffusa fra le persone, la volontà, il desiderio, l'aiuto che ciascuno forniva, l'aiuto vicendevole, uomini, donne, bambini, tutti insieme ad aiutarsi, che si aiutavano, si sostenevano e persino cucinavano gli uni per gli altri. Mi è stata persino consegnata una piadina che ancora oggi ricordo, ricordo ancora l'odore, ricordo che era ancora caro.